allora vagnu mettete le mascherine se non siete fumatori perché in sto canale non si fa altro la cosa che volevo fare oggi era una lezione di botanica tranquillissima in tutto questo sono tipo le 5 di mattina sono appena tornato da far serata un po ubriachello un po fatterello ma c'avevo voglia di registrare sto video quindi vaffanculo lo registro secondo me rollare la canna è un'esperienza cioè il viaggione non inizia quando tu hai già fumato il viaggione parte da quando tu stai rollando se voi non avete mai imparato a rollare e vi siete sempre fatti rollare le cose dagli altri vedete di imparare perché è la cosa più bella del mondo ovviamente a bandiera vagnu se non lo sapete fare ditemelo che vi faccio un video su come rollare a bandiera perché voglio che tutti quelli che mi seguono rollino a bandiera beh vagnu se adesso avete davanti la vostra pagina di botanica da studiare è il momento di iniziare la lezione oggi sto studiando un bel dry veramente simpatico mi piace il mio momento preferito quando studiare una bellissima pagina di botanica è prima di andare a dormire o meglio dopo aver fatto serata è tipo la quiete dopo la tempesta vagnu in cui ti metti ti stai nel tuo chill e ti rilassi e pensi a tutto lo schifo che hai fatto poco fa e voi invece quando è il vostro momento preferito in cui studiate botanica che spettacolo mi intrippo un botto a vedere la canna che brucia proprio arte mamma mia vagnu vi giuro questa ci stava tutta questa bomba sta proclamando la fine di una bella serata perché mi sono molto divertito e non c'era modo migliore di finirla così sono la persona più felice nel voto in questo momento oggi non mi ricordo che giorno è alle 5 qualcosa del mattino io sono felice iscrivetevi commentate mettete mi piace seguitemi su instagram ciao a new